Noi ci siamo già attrezzati per far rientrare i nostri cittadini che sono in Cina, le altre precauzioni ovviamente ci manteniamo come ho sempre detto flessibili per perseguirle e realizzarle, ma al momento vi posso confermare che le misure di cautela e di precauzione adottate dall'Italia rimangono assolutamente elevate e non c'è motivo di adottare ulteriori misure. Ovviamente stiamo garantendo a tutti i cittadini italiani, alcuni l'hanno già fatto, di rientrare.